In queste settimane vi stiamo parlando dei progetti che saranno sostenuti con il ricavato della Grande Cena di Borea e di Telereggio. Oggi parliamo di un progetto del Centro Missionario di Ocesano, lo facciamo con il direttore, Don Pietro Adani. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Uno di questi appunto progetti sostenuti della Grande Cena è, diciamo, una vostra missione, un vostro progetto, l'ospedale di Ampassimanseva in Madagascar. Intanto vogliamo ricordare ai telespettatori appunto com'è l'ospedale e perché è importante per quella comunità. Gli ospedali sono tutti importanti, sono importanti per noi qui, sono importanti anche nei mondi più feriti e più poveri e quindi è una delle attività con cui la Chiesa vive la missione attraverso l'attenzione alla sanità delle persone, la cura, il prendersi cura delle persone e l'educazione e la formazione per aiutare ogni paese poi a camminare secondo la propria cultura, le proprie forze e arricchisce anche la nostra cultura a questo incontro. L'ospedale dell'FMA, giù in Madagascar, sono quasi 50 anni che la diocesi di Reggio Emilia, insieme alla diocesi di Fianaranzua, locale, con RTM, volontari nel mondo, sta aiutando con interventi anche di persone, volontari, tantissimi volontari che sono scesi da Reggio, dall'Italia per assistere, accompagnare, sostenere questo ospedale. Siamo arrivati in un momento molto cruciale, anche molto sfidante, molto interessante, cioè quello di riuscire a rendere l'ospedale e rendere il personale dell'ospedale, che oggi è completamente malgascio, i medici, gli infermieri, gli osse, gli operai che lavorano dentro l'ospedale, un ospedale che offre al territorio di Appassimazeva, ricordiamo che siamo in foresta, le persone si accostano all'ospedale facendo giornate anche di cammino, circa 100.000 persone fanno riferimento a questa struttura ospedaliera di circa 100 posti letto, con alcuni padiglioni chiaramente strategici che ci sono dentro dal blocco operatorio, che poi di recente vedrà anche due nostri medici, il dottor Crotti, ginecologo primario a Guastalle, e il dottor Cerami, che volontariamente scenderanno e faranno... Anche perché l'ospedale sta vivendo un'ulteriore problematica dopo la tragedia, la morte del dottor Marten e di una serie di altri collaboratori dell'ospedale, quindi vive un momento anche difficile? L'ospedale vive un momento difficile, i malgasci sono più bravi di noi, hanno una capacità di risollevarsi veramente straordinaria, anche se anche noi in questo periodo stiamo dando, secondo me, una prova molto forte, in momenti di crisi penso all'alluvione che ha colpito la nostra Romagna, è bello vedere come nei momenti di crisi l'umanità, l'uomo, i giovani in primi, riescono a dare il meglio, bisognerebbe essere costanti, ecco in questo. Sono stati provati, siamo stati provati, sono sceso all'inizio di quest'anno, insieme a Don Filippo, al figlio del dottore e della dottoressa, che sono deceduti, ho trovato un popolo che non ha perso la speranza, ferito dal dolore, ma lo sta testimoniando in questo periodo, molto riconoscente, perché 38 anni di servizio del dottor Martin presso l'ospedale, è considerato un'autorità straordinaria, un grande onore, un grande rispetto, e il desiderio però di andare avanti, noi li stiamo aiutando nell'organizzazione proprio dell'ospedale, chiaramente nel sostegno economico. Cosa serve l'ospedale adesso e cosa potrà essere fatto con il ricavato della Grande Cena di Borea e Telereggio? Ringrazio di essere ancora una volta come centro missionario stati invitati alla Grande Cena di Borea, che quest'anno si svolgerà in piazza, ringraziamo anche il Vescovo Giacomo, perché ha dato anche disponibilità delle proprie strutture per poter permettere questo grande evento di beneficenza che tocca tanti settori, noi ringraziamo davvero per essere presenti e ci sentiamo valorizzati in tanti progetti che facciamo. Quest'anno abbiamo messo l'ospedale, è stato accolto, l'ospedale sta lavorando insieme, questo progetto eromalato, triennale, coordinato dal tavolo di Riboldi con RTM e volontari nel mondo, ma vede la partecipazione molto positiva, prima di Nicolini, oggi della Marchesi, con Mazzi, quindi l'AS di Reggio Emilia, Villa Salus, Villa Verde, che ci siamo messi insieme non solo per aiutare nella ristrutturazione dell'ospedale, quindi per rendere più economico e gestibile l'ospedale, nello stesso tempo anche per una formazione che è iniziata, una formazione attraverso i mezzi di comunicazione che anche attraverso il Covid abbiamo colto qualcosa di positivo, diciamo così, nel riuscire a stare in connessione con loro e fare momenti formativi dell'ospedale che valorizza anche il personale. E la grande cena aiuterà proprio l'ospedale a compiere questa ristrutturazione che vede un progetto di fondi carità 8 per 1000 della CEI, che stanzia quasi 400 mila euro su un progetto che supererà i 600 mila euro, che è stato lanciato insieme in una conferenza stampa in comune accordo con la dottoressa Marchesi e credo che questo sia un segnale bello, cioè questa apertura agli altri, questo prendersi cura senza chiaramente trascurare quello che dopo il Covid è anche un momento emergenziale per la nostra sanità, credo che sia assolutamente interessante questo considerarsi cittadini di un mondo e fratelli. Peraltro volevo ricordare ai telespettatori che parliamo di un paese, di una zona, di un paese tra probabilmente le più povere del mondo e di una realtà, di un ospedale che ha ancora più valore rispetto al tanto valore che ha nelle nostre zone. Certo, sì, siamo in uno dei paesi più poveri del mondo, cronicamente povero, forse la loro fortuna è che là dentro non hanno grandi guerre perché non hanno grandi risorse nel loro sottosuolo, un paese bellissimo, prima del Covid si stavamo muovendo anche un'attività turistica interessante, ha una vegetazione unica nel mondo, delle coste belle, stanno vivendo un momento anche loro di ripresa in una povertà non di luoghi ma in una povertà di paese molto esteso. E l'ospedale è veramente una struttura importante per la popolazione, per un'ampia popolazione, ma comunque continua a essere, immagino, noi ci siamo stati, io sono stata molti anni fa, ma credo che ancora queste problematiche ci siano, cioè non facile comunque raggiungerlo, parliamo di una struttura aviaria complessa come le nostre, e poi anche all'interno dell'ospedale, l'elettricità che non è poi così scontato avere sempre, tutto il giorno, con ovviamente tutte le problematiche che sono legate anche a come e quando fare, per esempio, gli interventi chirurgici. Certo, nell'intervento che andremo a realizzare, che è già iniziato, ci saranno altri volontari che quest'estate scenderanno per montare il fotovoltaico, potenziare il fotovoltaico, perché una parte c'era già, e permettere la garanzia anche alla sala operatoria di funzionare 24 ore. Per noi sono cose scontate, lì non è niente scontato, c'è una umidità molto alta, anche le attrezzature subiscono danni, la riparazione è difficile, lei giustamente diceva che è raggiungibile, è raggiungibile, quando ci sono la stagione delle piogge e dei cicloni viene anche isolato dall'acqua all'ospedale, non è raggiungibile, è raggiungibile quindi con dei mezzi via barca, oppure c'è la strada sterrata, che durante la stagione buona si percorre, comunque 12 km, ci vogliono quasi due orette, perché comunque è abbastanza non curata, diciamo così, la strada. È sterrata, sostanzialmente. È sterrata e non è curata, quindi però i malgassi arrivano a piedi, arrivano con mezzi di fortuna, arrivano anche lunghi, in ritardo, perché una cultura deve ancora crescere verso la sanità, hanno i loro rimedi tradizionali, questo però fa parte proprio di un accompagnamento graduale, lento, rispettoso anche del paese e delle loro tradizioni. Donna Dani, prima di salutarla, le volevo chiedere due cose. La prima, se comunque il progetto Ero Malato, si può comunque sostenere al di là della grande cena, se si possono fare donazioni, se si può in un qualche modo sostenere questo progetto. Sì, questo è sicuramente vero, lo trovo un po' in imbarazzo per quello che stiamo vivendo nella nostra regione. Ah, certo. Però sì, si può sostenere, abbiamo perso l'ambulanza nell'incidente drammatico di fine anno scorso, l'abbiamo riacquistata, siamo andati in un esborso importante, l'operazione è un'operazione importante per il Madagascar, il centro missionario ha un IBAN dedicato alle opere di carità presenti nel mondo, nella causale, basta mettere il progetto Ero Malato, ringrazio davvero per la tanta generosità anche di due anni fa, quando ci sono stati cicloni che avevano colpito proprio l'ospedale, abbiamo dovuto rifare delle strutture, rimettere a posto, diciamo così, un po' i tetti che erano stati scoperchiati, la città di Reggio e provincia della Diocesi è stata generosa e confido proprio ancora in questa provvidenza che passa attraverso le persone di buona volontà che, secondo me, Reggio è un bel esempio. E soprattutto ci sono, poi la solidarietà, un progetto non esclude un altro, giustamente lei ricordava in questo momento siamo tutti proiettati alla solidarietà per i nostri conterranei e romagnoli, ma la cosa forse bella, il messaggio bello della grande cena di Borea è che si possono sostenere tanti progetti, siano essi locali o internazionali, quindi vede questa disponibilità, la solidarietà nel nostro territorio ancora? Sì, questo lo posso dire serenamente, trasversalmente lo vedo dentro la chiesa, dentro la società, anzi forse la parte più bella che ci rende anche più orgogliosi della città e questo forse è il dono che ci possono offrire le situazioni emergenziali e povere dei paesi che ci aiutano a superare, superando dei confini superiamo anche delle barriere, dei confini tra di noi e quando abbiamo dei progetti trasversali credo che riscopriamo una unità di cui oggi penso sia l'emergenza più grande tra di noi. E poi fa le differenze probabilmente nei territori, nelle comunità. Sì, una cordialità, una capacità di accordarsi sulle cose che contano, siccome è tornare all'essenziale, tornare insieme a guardare questi paesi per ritrovare anche noi una capacità di solidarietà nel quotidiano, che è il vicino di casa, che è la persona e che credo Reggio abbia sempre dato un bel esempio. Grazie Don Adani, la devo salutare, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, buona giornata. Andiamo avanti col programma, è il momento dell'ABC del diritto.